bella a tutti ragazzi ecco qua la mollana saluta ciao ragazzi mi piace il mio piede allora ragazzi state bene allora la domanda del giorno la prima domanda del giorno e questa è una domanda di toccio allora qua quale fu l'ultima squadra europea di ronaldino scrivete tutti tutti qui sotto nei commenti cosa devono fare l'ama scrivere tutti su nei commenti no su giù giù nei commenti va bene va bene quello è il bagno quello è il termosforio e lui è un lama questo è l'occhio dell'ama peppe spolliciato un sacco rega spolliciato un sacco rega quindi da oggi faremo solo domande del giorno quando farò video faremo delle domande di calcio ma non solo mi piace l'occhio dell'ama cheezy ciao gente woohoo doo doo mi piace la gioca